Birra Peroni ha celebrato la raccolta dell'Orzo 2021 con un evento dedicato all'innovazione digitale che accelera la transizione ecologica della filiera. Sono stati presentati a Roma i risultati e lo stato di avanzamento dei progetti più innovativi che Birra Peroni sta portando avanti insieme ai propri partner nell'ambito di Campus Peroni per supportare attraverso la tecnologia l'evoluzione sostenibile della filiera. Birra Peroni è da anni impegnata in quella che oggi viene definita transizione ecologica ma che per noi è sempre stata chiamata il percorso di sostenibilità. Abbiamo target e ambizioni molto forti perché entro il 2030 noi dovremo raggiungere la neutralità in termini di emissioni all'interno dei nostri stabilimenti ma oggi guardiamo oltre al 2050 in cui saremo neutrali all'interno di tutta la filiera quindi partendo dall'agricoltura fino al consumatore finale. E questo è un elemento innovativo perché da un ragionamento verticale dobbiamo andare a un ragionamento orizzontale, lavorare con i partner, lavorare con il mondo della ricerca per individuare soluzioni innovative, lavorare con il mondo delle start-up per scoprire nuove tecnologie e nuove modalità e quindi diventa fondamentale un lavoro di squadra. Oggi siamo a un convegno in cui si parla di misurazione della sostenibilità e questo è un elemento fondamentale perché se non riusciamo a misurare non riusciamo a migliorare. L'evento è stata l'occasione per stimolare un confronto aperto anche con gli stakeholders istituzionali finalizzato ad evidenziare come l'innovazione tecnologica in campo agricolo favorisca non solo una maggiore qualità e sostenibilità della produzione, coerentemente con gli obiettivi indicati dal PNRR, ma anche un recupero di competitività da parte delle aziende del comparto, essenziale in chiave di ripresa post-pandemica. Avevamo promesso, lo stiamo facendo, che il nostro sarà un percorso di accompagnamento alle aziende che vogliono investire nel nostro paese, che vogliono fare investimenti in campo ambientale e quindi nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Li dobbiamo accompagnare per avere dei processi brevi e per dare delle regole, poche regole chiare che servono a chi deve investire e anche a chi deve fare i controlli. Sono state inoltre presentate tre start-up innovative, Orta, X-Farm e Posti, che stanno supportando Birra Peroni in questo percorso di sostenibilità. Oggi abbiamo anche parlato di transizione digitale come abilitante della misurazione. Questo in realtà è una delle direttive europee, si parla di passaporto digitale dei prodotti proprio come valutazione di impatto ambientale e sociale del prodotto. Quindi il consumatore può, attraverso, come abbiamo visto, le tecnologie di blockchain, andare a misurare, a avere evidenza di quello che è l'impatto del prodotto. Questo è un aspetto chiaramente fondamentale, la misurazione, non solo per un miglioramento continuo del processo, ma anche per un discorso di trasparenza e di partecipazione del consumatore al cambiamento, quindi a questo ambiziosissimo progetto di cambiamento.